...anzioso di Cavani, poi però minuto 57, eccolo qua, Massimo Gobbi, la sua percussione, il pallone dentro per Flockeri, geniale il colpo di tacco dell'ex laziale, bruciante l'anticipo sul Campagnaro e precisissimo il piattone sinistro sul palo più lontano di Gobbi, non può nulla De Santis, arriva all'ottavo gol in Serie A per Gobbi che non segnava da due anni e mezzo in Serie A, Parma in avvantaggio a sorpresa.